Oggi chi ha votato Forza Italia può votare il partito che lascia alla Meloni la leadership della destra? Cioè la destra europeista, popolare europea, può essere rappresentata da Forza Italia, da Giorgia Meloni? Come no? E viceversa, lo dico a chi viene dal PD, può essere rappresentato da chi dice no alla proprietà privata? Ma intanto si parte dai jet, poi vediamo il futuro. Chi dice come sta accadendo in queste ore? Che la linea politica-economica deve essere sostanzialmente più vicina a quella della sinistra comunista che non della sinistra riformista. A forza di seguire le influenze russe del centro-destra, che secondo me è un argomento interessante, e ci stiamo perdendo le influenze sovietiche sulla sinistra, guardate che dire abolizione della proprietà privata che non c'è la ricetta e dire che tutto ciò che è extra profitto non vale è l'inizio di un seme a mio giudizio non liberale. Quindi questi che hanno votato PD, come fanno a votare questo PD qua? Come fanno? Lo votano. E quindi i riformisti di sinistra e i moderati di destra secondo me potranno terzo volo.